ti spiega in maniera semplice in maniera ottima come eseguire una ricetta e devo dire che ho già provato un sacco dei suoi prodotti e sono sono riusciti quindi lo ringrazio le lezioni teoriche e pratiche sono chiarissime inoltre il prof andrea è una persona molto professionale molto molto bravo completo e forse unico nel suo genere perché non ho mai trovato su internet dei corsi così dettagliati così pieni di ricette di video ma quello che ho trovato all'interno di questo video corso ha superato ogni mia aspettativa preciso dettagliato teoria e pratica si fondono praticamente in un equilibrio perfetto mentre ora vi mostro quello che sono riuscita a fare seguendo il suo video corso questo è il pane che ho cotto stamattina e già mi erano piaciuti molto quindi diciamo che mi sono voluta affidare buttare e comprare appunto il suo video corso e devo dire che sono rimasta veramente stupita in modo di perfezionare i cornetti alcune nozioni sia teoriche che pratiche mi hanno permesso di capire cose che finora non ero stato in grado mi è molto spiegato bene mi piace tanto perché viene spiegato in maniera semplice e intuitiva lo consiglio a tutti che vogliono vogliono fare le cose fatte bene quello che posso dire che sicuramente tutto tutte le ricette tutti i metodi tutte le malizie tutto quello che ha trasmesso in questo corso sono sicuramente tanti anni di esperienza non è un anno di lavoro non è qualche ricetta trovata quella ma sono sicuramente anni anni di esperienza e mi sto trovando molto bene sia a livello di completezza delle ricette che a livello di assistenza molto puntuale potete acquistare tranquillamente questo video perché non ve ne pentirete hai sempre da imparare tutto qua andrea è bravissimo è bravissimo bravissimo e la ringrazio tanto di tutto e la ringrazio tanto di tutto per la ringrazio tanto di tutto